Oggi si festeggia San Gaetano da Tiene, il Santo della Providenza, il fondatore dei padri teatini e il patrono della Baviera. È venerato come il Santo della Providenza, dicevamo, per la sua illimitata fiducia in Dio, è perché ha dedicato la propria esistenza al servizio dei poveri, degli ammalati e degli indifesi, tanto da fondare appunto un istituto per questo scopo. Per il sorvelo, per la salvezza delle anime, venne anche soprannominato il cacciatore di anime. Ma chi era questo santo, discendente della famiglia dei conti di Tiene, nei pressi della città di Vicenza, era nato nel 1480, sempre a Tiene. Aveva rinunciato alla carica che gli era stata offerta a Roma. Ai posti di onore aveva preferito la compagnia dei poveri e degli esclusi. A Roma è lì, c'era già stato, perché dopo la laurea in materie giuridiche conseguita a Padova, è stato chiamato come segretario particolare del Papa con l'incarico di scrittore delle lettere pontifice, un compito che gli ha fatto conoscere persone importanti in Roma. Il nostro santo non si è lasciato abbagliare dallo splendore della corte pontificia, ma si è scoraggiato di fronte al disordine diffuso, tanto che ripeteva Roma un tempo santa, ora è una Babilonia. Anzi, illuminato da Dio, ha cominciato a riformare prima se stesso e poi la comunità cristiana. Gaetano, insieme ai suoi compiti della curia, ha cominciato ad assistere gli ammalati dell'ospedale di San Giacomo e si è iscritto all'oratorio del divino amore. A 36 anni è diventato sacerdote e a Natale ha celebrato la sua prima messa, pensate, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro principali basiliche romane. Durante la celebrazione della messa a Gaetano è apparsa la Madonna che gli depose tra le braccia il bambino Gesù. Per questo il nostro santo è spesso raffigurato nell'arte e nelle immagini devozionali con Gesù bambino tra le braccia. Poco dopo Gaetano ha preferito ritornare a Venezia dove ha fondato l'ospedale degli incurabili. Gaetano comprese anche la necessità di ricondurre gli ecclesiastici nell'albeo della santità della vita consona alla propria vocazione. Per questo ha maturato l'idea di un suo istituto, un istituto religioso sacerdotale, dando personale testimonianza di povertà evangelica e anche di intenso desiderio di imitazione del Salvatore. Molto devoto del presepe e della passione del Signore, con Pietro Carafa, il futuro Paolo IV, fondò la congregazione dei Chierici, comunemente detti Padri Teatini, da Teate, il nome latino della città avruzzese di Chieti, nella quale il Carafa era bescovo. Erano Chierici che trovavano nella Divina Providenza la soluzione ad ogni problema. Quadiuvato da tre compagni ha preso i voti presso la tomba di San Pietro in Vaticano, intendendo ricreare lo spirito della primitiva comunità cristiana. I Teatini hanno avuto un ruolo significativo nella controriforma. È il loro esempio molto significativo per la Chiesa, in tempi in cui il monaco tedesco Martin Lutero, contemporaneo appunto di San Gaetano, stava lacerandola irreparabilmente. Sappiamo la divisione che è avvenuta in quel tempo nella Chiesa. Quando a Roma scesero i Lanzichenecchi durante le tragiche giornate del Sacco di Roma del 1527 da parte delle truppe di Carlo V, Gaetano fu da loro seviziato e imprigionato nella torre dell'Orologio in Vaticano, mentre il Papa è stato costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo, difeso dalle guardie pontifice. Gaetano dovette poi tornare a Venezia. Qui poco dopo è scoppiata l'epidemia della peste che ha costretto i Teatini a propagarsi in altre città, dove insieme ai Gesuiti operarono per la controriforma cattolica. Nel Veneto moltiplicò le sue opere apostoliche assistenziali, accettando tra l'altro l'invito del noto tipografo veneziano Paganino Paganini di avviare all'arte della stampa tipografica inventata dal tedesco Giovanni Guttenberg, gli stessi padri Teatini da lui fondati. In seguito Gaetano si è trasferito a Napoli dove svolse una multiforme attività diretta a formare il popolo, la soda pietà e anche all'integrità dei costumi, nonché alla riforma delle comunità craustrali femminili. Gaetano ha fondato ospizi per anziani, ha incrementato all'ospedale degli incurabili l'assistenza, è stato accanto al popolo durante le carestie e le ricorrenti epidemie come il colera che flagellarono la città in un periodo di sanguinosi tumulti e anche avvicinato i fedeli al sacramento della riconciliazione. Si deve a San Gaetano la fondazione del famoso Monte di Pietà per i giusti prestiti e elargizioni, un istituto bancario pensato per le vittime degli strozzini e le vittime degli usurai, dal quale in seguito ha avuto origine il Banco di Napoli, il quale è un grande istituto bancario del mezzogiorno e allora noi nella festa di San Gaetano rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Introducimi anche oggi, o mio Dio, ai piedi del tuo altare. Introducimi sempre da te, o mio Signore, l'altare del tuo sacrificio, o mio Signore, mi attrai con irresistibile fascino. Il tuo sangue, o mio Signore, fa vivere i miei ideali. Il flusso d'amore che scorre sul mondo, o mio Dio, scende sempre dai tuoi altari. Il flusso del tuo sangue, o mio Signore, è flusso inarrestabile. L'onda d'amore che sgorga da te, o mio Dio, è travaso di un cuore spezzato per amore. Convoglia anche il mio sangue, o mio Dio, affinché irrighi il mondo a risanare terre aride e riarse dal male. Le anime smarrite, o mio Signore, assorbono il tuo amore e tornano a fiorire in frutti di grazia. I cuori affranti, o mio Dio, si dissetano al sangue delle tue delizie e si espandono in fronte di dolci refrigeri. introducimi, o mio Signore, nell'oasi desiata per fluire in eterno da te. Amen.